Ben ritornati a tutti amici e amiche di YouTube Da me e Gabri Che non avete Oh stai fermo Che non avete mai visto sul canale Torniamo con gli 1v1 Va bene ok dai si Con armi moddate Come questo lanciagranate Quest'oggi Vedrete di sicuro Io non lo vedo perchè l'ho messo in edit Un codeggio delle morti Chi vincerà secondo voi? Scrivetelo da ora nei commenti Quel babo lì dietro oppure coffee party Comunque Il via sarà deciso da un mio sparo Non ho un tuo 3, 2, 1 Sei calmo Dov'è che sei? Andremo in un villaggio Quindi ammattiamo tutti i villager per forza Dov'è che sei? Perché è buildato qua? Ecco Uuuh no Ma te l'hai già fatto Complimenti Andiamo giù Ma sapevo che l'hai già fatto Mamma mia Ok c'è la keep inventory Sì Si è messa di già Uuuh Comunque Dov'è che sei tu? Ok Sì L'hai già ritorno Ok Non lo vuoi Non lo vuoi Ma non lo vuoi Come cavolo E' un build E' un build Così ti blocchi E' un build lo stesso Forza Forza Puttina Ma hai ti aspetto Vieni Ho colpito Ma come cazzo Ma come cazzo Ma come cazzo E' un build E' un build E' un build Quando serve Quando serve Quando serve Attivato No Ma C'è lock C'è secondo te Schivi Si può Ma si può allungare Alloccare Si Ah Adesso l'hai scoperto Si La scoperta adesso Non lo sapevo E' bello E' che alla mod L'ho detto Installerla io No Aspetta Scoperta 25 E' one shot By Kofu E' vabbè E' vabbè Ah no Ok Lo ho messo adesso Ma 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 Mi stai facendo a colpirmi da dietro l'albero No Perché ti vedo C'è secondo te Mi ha rotto l'albero Mi ha rotto l'albero Mi ha rotto l'albero No Ma che sei caduto eh Nooo 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 Non ci credo Nooo Nooo Mamma mia non hai idea dello scavo che ho preso Come mai non muori Come mai non muori E' troppo potente mi ha distrutto un pezzo d'armatura Ci credo perchè non muori Ci credo perchè non muori 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 Nooo E' vabbè ci credo ci credo E' ci credo non Perchè io Praticamente c'è il mirino dello scar che si mette E si toglie premendo due volte E' lo scopo E' quello che ti devi usare E' quello che ti devi usare No fermo 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 non vale Non vale No è Si è Mi hai preso il punto Vado Brrrr Brrrr No sei là Ti vedo E' neanche io Ah Verete basta di Dio Maria Salvador Dai direzionami Perchè 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 Carica di Dene Madrona Non è possibile Non è possibile Eeeh No, sei in un bastiano, cavolo Avevo mezzo cuore Le mele doro, non ce l'ho No, 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 no Sì Mamma mia, che girato Dai Sì Ma? Siamo altri entrambi? Sì Scappo, scappo Ho troppato lo scar, è finita Niente però Come ho fatto? Dai che sei Eeeh 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 No, 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 non ricatti niente Maaaah, siamo morti entrambi Aiuto Eh, ma qua è... Ma cosa... 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 E' troppo fatta la minigun Eeeh 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 Uno di noi è più l'armatura? Sì Stai fermo con questa motosega Sì Stai fermo con questa motosega Non ci sei vera La smetto, la smetto La smetto La smetto La smetto La smetto Eeeh Nooo Mi hai visto Mi hai visto Dai Peccato che era scarica La mia Se non eri morto, stacchito e mollito Vedi che sei veramente un camperone Ma cosa? Ma sono... Distante 3.000 km Eeeh Ma hai aspettato che rinascessi? Questo per a casa mia si chiama campering No, perché se sono distante no Non è... Eeeh 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 Niente Bara, bara Tanto i video che stai fanno le tonte Certo, certo Così eeeh 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 Ma dai Ma dai Sei veramente Ok, va bene Ok, va bene E' bravo Ok Ok Dai Uh 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 Vengo da te ti spacco la faccia Brrrr Brrrr Prrrr Brrrr E ti possiamo anche Godsaggia Aspetta, prima di spararci eh un attimo ci distanziamo Che cacchio sei andato? Sei caduto nel vuoto? Ah, sei in caverna Qui a la famiglia Anche a me Che tu spendi Sola Poi sarà somma Io ho visto che ero in caverna Però pensavo che ero troppo il circo E hai tutte scuse Le scuse Come sta l'angolino Eccolo Da dietro Bello Non ero da dietro Ero da davanti Ma non mi hai visto Ma non ti ho visto Ma chi sta sparando Che stai sotto terra Appunto E' il zoom Oh te la fai a fatti un billar madonna Eh non c'ho lana Ah no sto scherzando Ce l'ho Ecco A me vengo a porti la tua fine miserabile Dov'è che sei? Chissà dove sono Sicuramente Ah miserabile non è vabbè tu non è davvero non è così uguale è quello che mi ha dato non è così ok ciao faccio la mia è troppo potente ma certo non ho più l'armatura anche io ce l'ho anche io non ce l'ho bravo che ti posso dire ricaricava ci avete tre anni capo da bello bello questo clutch bello quest'altro bello bravo grazie allora siamo qui riuniti per l'ultimo round di questa epicissima roba che incomincerà al mio via siamo tutti senza armatura ma comunque se gabribare è scena e facciamo così ho vinto amici amiche non ho detto neanche via comunque e no io ho detto che il via era quando io sparavo ho sparato ed era via tu devi stare più attento comunque direi che dovete lasciare subito like e iscrivetevi dovete lasciare subito like e iscrivetevi se vi è piaciuto il video alla fine il conteggio finale è questo quindi se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale un bacione ciao saluta ciao